Procedono i lavori di manutenzione straordinaria di alcune delle principali arterie cittadine. Sono terminati in via Manzoni, nel tratto compreso tra via Orazio e via Stazio, gli interventi di ripavimentazione e rifacimento dei marciapiedi e del capostrada. Proseguiranno invece nella giornata di oggi e domani i lavori nel tragitto che va da via Stazio all'incrocio con via Caravaggio. È previsto, infatti, fino ad ultimazione degli interventi, il senso unico alternato e il divieto di sosta ai lati della strada e negli stali dei motocicli. Dopo la sistemazione del manto stradale, la Municipalità di Chiaia provvederà alla creazione della rotatoria all'incrocio Manzoni-Caravaggio. Novità importanti, ha annunciato l'assessore calabrese, sono previste anche per il tratto da via del Marzano e fino a Torre Ranieri, che sarà riasfaltato dal 22 aprile. Procedono velocemente inoltre i lavori in via Leopardi, che dovrebbero terminare dopo Pasqua. E sempre nella zona occidentale della città, dove è stato appena sistemato un lungo tratto di via montagna spaccata, partiranno a breve interventi per le strade di fuori Grotta, Pianura e Soccavo. Ripristinata nell'area orientale, la pavimentazione di calata Capodichino, anch'essa interessata da un consistente intervento di manutenzione.